Giuseppe Meili, Master Certified Coach dell'International Coach Federation, direttore di Sun Success Unlimited Network. Giuseppe ha facilitato questa mattina una sessione di coaching con gli studenti della Summer School. Volevamo sapere da lui come è articolato la mattinata. Certamente. Allora, siccome l'obiettivo era quello di attivare comunque la relazione fra i partecipanti alla Summer School e di portarli ad avere degli strumenti concreti di attenzione su che cosa fare, in che modo e per ottenere che cosa, quindi trovare anche degli elementi di motivazione, abbiamo iniziato la giornata facendo fare un panorama delle loro esperienze di 30 anni praticamente, quindi collezionando le esperienze che loro consideravano significative o gli eventi, che potevano essere eventi storici piuttosto che politici, sociali, personali, perché chiaramente c'è un'interazione in tutto, fino ad arrivare a proiettare invece per il prossimo decennio quelle che sono in qualche modo le loro aspettative e avere quindi una visione più generale. Da questo siamo passati ad una dimensione più personale, per cui i partecipanti alla Summer School hanno analizzato le loro esperienze di successo e di benessere per riuscire a distillare delle costanti, cioè avere effettivamente ciò che gli serve per ottenere ciò che vogliono. E da lì ci siamo mossi verso una unione di queste informazioni, una condivisione, così per formare il gruppo, in modo tale che sapessero anche su che cosa potessero contare in questi giorni per i lavori alla Summer School. Se dovessimo quindi riassumere in poche parole, qual è la ricetta per arrivare ad avere un mondo all'altezza dei propri sogni? Allora, innanzitutto conoscere i propri sogni e quindi esprimerli con chiarezza, per cui che cos'è che davvero mi farà capire che il mondo è all'altezza dei miei sogni? E talvolta la criticità è che i sogni continuano a cambiare e magari non abbiamo delle evidenze esterne, cioè com'è che sono veramente, che cosa voglio che accada? E allora lì c'è una difficoltà ad individuare le azioni, per cui per avere un mondo all'altezza dei propri sogni, conoscere i propri sogni e impegnarsi per fare tutte le azioni per raggiungerli. Che impressione ha avuto dei partecipanti di questa Summer School come qualità, impegno, doti personali? Allora, la prima cosa che ho notato nella loro presentazione, dove abbiamo chiesto di presentarsi in tre parole, quindi una cosa veramente già complessa, è stata la facilità con cui i ragazzi sono riusciti a trovare questa sintesi. Quindi già mi pare che siano delle persone che hanno una conoscenza di loro stessi, hanno già analizzato che cosa serve. E un'altra cosa che ho apprezzato moltissimo, che mi sembra caratterizzare questo gruppo di ragazzi, è la loro curiosità, apertura ed impegno. E invece un consiglio a RENA, come potremmo fare per facilitare la creazione di un'intelligenza collettiva per il Paese? Bellissima domanda questa. Nel mio lavoro di solito quando si dice bella domanda è perché non si ha la risposta. Quindi in questo caso credo che veramente, come RENA, quello che voi state facendo, che è quello già di facilitare il dialogo e di offrire degli spunti di riflessione e garantire in un qualche modo che si inizi anche a costruire una visione sia già un qualcosa che vi muove proprio nella direzione proprio di creare questa intelligenza collettiva. Credo che sia importante trovare il modo poi di condividere i risultati di questi lavori con quante più persone possibili. Quindi di riuscire ad accedere veramente a quante più parti del Paese che possano contribuire davvero a realizzare quello che in questi giorni verrà in qualche modo promosso. Grazie.